In un anno in cui l'opinione pubblica è molto concentrata sulla situazione delle due guerre, dei due conflitti in essere, era necessario puntare molto su figure che parlassero di pace, di impegno sociale e diritti umani. Però non mancheranno anche storie molto raccapriccianti, storie di donne che hanno subito delle violenze esagerate, non mancheranno anche storie di riscatto, quindi donne che sono riuscite ad ottenere dei livelli importantissimi nel mondo del lavoro, soprattutto per quanto riguarda la parità di genere. Ecco, questi saranno poi i focus che verranno affrontati in questa dodicesima edizione. Quest'anno l'impegno con le scuole, devo dire, è stato veramente importante e significativo. Siamo riusciti veramente a coprire e ad annoverare nel nostro progetto tutte le scuole superiori di Arezzo e tutte le scuole superiori del territorio provinciale. Quindi arriviamo fino a San Giovanni Valdarno, copriamo la Valtiberina, il Casentino, tutta la Valdichiana. E quest'anno per la prima volta si è inserito nel progetto anche una scuola media. Devo dire con molto orgoglio, molta soddisfazione che siamo stati chiamati e contattati anche da istituti fuori regione. Per quest'anno non è stato possibile, abbiamo un anno di tempo per organizzarci, però questo sta a significare che il progetto prende campo. La sensibilizzazione nelle scuole è molto importante perché purtroppo stiamo assistendo ogni giorno ad una recrudescenza di violenza giovanile che va arginata. Bisogna lavorare molto con gli insegnanti, molto con gli studenti e molto con le famiglie. Menchetti ha rinnovato la collaborazione e il sostegno al premio Semplicemente Donna. È da anni che affianca questa importante iniziativa perché di base ne condivide i valori più importanti che sono l'inclusione, il rispetto e soprattutto la valorizzazione delle persone e soprattutto delle donne. Li rivive anche nella propria azienda dove a livello di modello aziendale ha al suo interno tante donne, addirittura si parla del 50% su 500 dipendenti. Quindi insomma una quota molto alta e soprattutto donne che vanno a rivestire sempre più spesso ruoli di responsabilità, ruoli dirigenziali e quindi che vengono valorizzate nel loro talento femminile inteso come sensibilità, come capacità organizzativa e come anche capacità poi di creare ambienti di lavoro inclusivi e soprattutto organizzati. Quindi di base sono questi i valori con cui Menchetti incontra il premio Semplicemente Donna e ringraziamo gli organizzatori di essere ancora a loro fianco per questa edizione e speriamo di poter proseguire insieme con altre iniziative. Anche quest'anno il Consiglio regionale della Toscana è stato concretamente vicino a Semplicemente Donna che è arrivata alla dodicesima edizione dimostrando nei fatti una storicità importante. Anche quest'anno si interrà al Teatro Spina di Castiglione Ferentino. Tutte le istituzioni devono essere sensibili al tema della lotta contro la violenza alle donne. Si è fatto abbastanza, crediamo si possa fare ancora di più per sollecitare veramente l'attenzione su un tema, quello delle violenze e dei soprusi che non può essere più ammesso. Il Consiglio regionale ha riconosciuto il proprio patrocino e un contributo a questa iniziativa ritrovando nella medesima dei valori che sono parte appunto della regione toscana. È veramente un onore, un piacere, un orgoglio poter nuovamente ospitare presso il nostro Teatro Mario Spina questa manifestazione che oramai è un appuntamento proprio in occasione della ricorrenza della giornata contro la violenza alle donne. È una manifestazione oramai che è conosciuta in tutto il nostro comune ma non solo e soprattutto anche perché questa manifestazione è stata poi anche portata all'interno dei nostri plessi scolastici. Questo è molto importante perché è importante educare il rispetto, questo lo dico sempre. E quello che ho già detto è che quest'anno mi auguro e auspico che ci sia veramente una maggiore presenza maschile perché quello che è importante è che si capisca quanto è fondamentale crescere le nuove generazioni, far capire a loro quanto la parità di genere ancora è lontana dal realizzarsi effettivamente. E questo purtroppo lo vediamo anche dalle notizie di attualità. Quindi ben vengano questi eventi, ben vengano queste iniziative e il nostro comune sarà sempre ben lieto di ospitarle.